In tutto il mondo cristiano oggi si celebra l'Epifania, cioè l'arrivo dei tre remagi alla grotta della Natività. Stessa festa, differenti tradizioni. A Roma il Papa si è affacciato in piazza San Pietro. Vi darò questo dono, che vi verrà distribuito dai poveri. Il dono è stato un opuscolo, icone di misericordia. Mancano i cammelli, ha detto il Papa, ma il regalo c'è. Epifania per fisici e bestiali ad Istanbul, dove la tradizione ortodossa, che il 6 gennaio commemora il battesimo di Gesù, vuole che nonostante il freddo ci si butti in acqua per pescare la croce. Il patriarca Bartolomeo I ha celebrato messa nella cattedrale di San Giorgio. Anche ad Atene, processione e tuffi. Nella capitale greca si è aggiudicato la croce un giovane di 33 anni, Spiros Petropoulos. Sono molto contento di averla trovata, finalmente ce l'ho fatta. Mi ero immerso già nei tre anni passati, solo ora l'ho presa insieme a un altro ragazzo. Siamo tutti e due felici. Almeno non si è dovuto buttare in acque ghiacciate, come invece hanno fatto questi bulgari pur di rispettare la tradizione.